Sapete cos'è questo? Questo è un normale tubetto di dentifricio. Ma voi lo sapete che il dentifricio condiene l'80% di acqua e se c'è l'acqua, l'acqua fa la muffa. E se fa la muffa, cosa ci vuole? L'antimuffa. Per evitare i problemi dati dell'antimuffa mettono un antibatterico. A causa di un antibatterico mettono un antibiotico. Tutte queste sostanze chimiche nel tubetto creano sensibilità. Per evitare la sensibilità mettono anestetici. Invece io vi voglio presentare BlancoDent. BlancoDent è senza acqua. Dove non c'è acqua non si formano batteri. BlancoDent è 100% commestibile. Nei tubetti di dentifricio c'è il fluoro. Ma il fluoro è tossico e cangerogeno. Non lo dico io. Metti gli ingredienti su Google e vedrai cosa scoprirai. BlancoDent è senza fluoro. Prendi BlancoDent, taglia la commestione e metti tutto nel contenitore di plastica. Lo chiudi e avrai il tuo dentifricio 100% naturale. Come si usa a vedere? Apri la scatoletta. Prendi il tuo spazzolino. Lo bagnati. Poi lo metti. E poi questo qui. Che freschezza. Wow. Sentirai una freschezza. E sentirai i denti pulitissimi. BlancoDent. Non lo lascerò mai più. Vuoi acquistare BlancoDent? Il link è nei commenti. Vai. E dili che stai un mandato io.